dell'economia e dell'imprenditoria del territorio siciliano. Oggi in studio abbiamo due graditi ospiti e sono uno il dottore Salvatore Giunta, medico-dendista, e il dottore Aldo Amico, medico-chirurgo, che ci parleranno del progetto ARGE dell'Archistar Pierpaolo Maggiora, un progetto, tra virgolette, faraonico, che vede la Sicilia protagonista del Mediterraneo nel futuro, diciamo, nel terzo millennio, così detto. Allora, io innanzitutto, poi introdurremo che cos'è questo progetto ARGE, la prima domanda che voglio farvi, così una battuta a testa sintetica, è cosa ci fanno due medici a parlare di un progetto come questo? Due medici, sì, un odontoiatra e un chirurgo, che si sono sempre interessati nel sociale, che sono stati molto attenti a tutto ciò che avviene intorno a noi. Proprio per questo hanno fatto dei circoli, che sono i circoli della società civile, che hanno affrontato diversi argomenti, tra questi quello di un progetto che potesse intervenire sulla Sicilia e che potesse interessare tutti i siciliani. È proprio in quest'ottica che ci siamo avvicinati al progetto ARGE, al progetto di un architetto di fama internazionale, che è l'architetto che è Paolo Maggiore. Perfetto, io adesso vorrei aggiungere qualcosa? No, dico che non è strano che due medici sentano l'impegno civile, impegno un po' di mio. Noi viviamo in mezzo al bisogno, in mezzo alle necessità, in mezzo alle malattie e quindi sentiamo forse molto meglio di altri questo bisogno di intervenire nella vita sociale e politica e anche civile e quindi il fatto di essere vicini a questo progetto, anzi di avere portato, scusate l'immodestia, di avere portato questo progetto in Sicilia ci riempie di gioia e di entusiasmo, anche se siamo dei medici. Allora, prima di introdurre tutto il discorso, vorremmo mandare in onda un intervento proprio dell'architetto Pier Paolo Maggiore, ricordiamolo, un archistar a livello internazionale, ha disegnato la futura Pechino del terzo millennio, opere importantissime in tutto il mondo. L'intervento è tratto dal convegno del patto dei sindaci e piani di azione per l'energia sostenibile e il percorso verso le Smart City, tenuto il 31 ottobre 2012 nell'ambito della manifestazione Smart City Exhibition. In questo convegno l'architetto Maggiore ha parlato di Joe Fedian, un progetto del suo studio, l'Arca di Torino, Joe Fedian è la città simbolo della nuova Cina del terzo millennio, un progetto che è stato vinto dallo studio di Maggiore, si prevede che questa città cinese sia pronta nel 2030 e sorgerà nell'area di Pechino delle grandi industrie del Golfo di Guai e ospiterà 3 milioni di abitanti nei primi 10 anni. La città per il suo funzionamento non utilizzerà nemmeno una goccia del petrolio che si estrae negli intorni e le emissioni di CO2 saranno circa il 5% di una città di pari dimensioni e densità abitativa, cioè quasi a impatto zero, anche perché l'ecosostenibilità è uno dei punti di forza di questo architetto. L'energia sarà ricavata per il 60% dalle maree, dal moto ondoso e dalle correnti, il resto arriverà dal solare, dal microeolico, dal geotermico e dai rifiuti. Con questa città la Cina entra nel dibattito urbanistico internazionale raccogliendo tutte le sfide dell'ecosostenibilità. Simbolo della città sarà la torre dell'energia, alta 999 metri, che si vedrà la piazza Tierammenne e ospiterà banche e musei. In questo convegno sempre l'architetto maggiore a noi per utilità nostra abbiamo tagliato la parte che riguarda Ciofedianne, però in questo convegno è anche parlato del progetto Arge per la Sicilia e quindi noi andiamo a introdurre questo breve filmato per chi ci segue, ricordiamolo, su YouTube, sul canale di Radio Amore San Cataldo, mentre invece per chi ci ascolta sulla radio ascolterà il sonoro. Oltretutto un caso internazionale che però vede un forte protagonismo italiano è la città di Ciofedianne in Cina, dove il concorso per la progettazione di questa città del futuro a impatto zero è stato vinto dallo studio di Pierpaolo Maggiora. Ed è anche un ponte ideale verso un altro progetto che poi ci descriverà meglio l'architetto, che è il progetto di rendere alla Sicilia una smart city, una smart region, una smart community. Bene, e a questo punto credo che possiamo dare avvio al video. Buon lavoro. In questo momento, naturalmente, per chi è a radio non lo vede, ma a questo punto è per chi è collegato con il nostro canale di YouTube, per chi è collegato con il nostro canale di YouTube, che stanno vedendo il filmato di Ciofedianne nella città, la nuova Pechino, cosiddetta. La Pechino sul mare. La nuova Pechino sul mare. Perché Pechino è un po' distante dal mare. Questa verrà collocata, detto bene, una città da 3 milioni di abitanti. Ascolciamo l'architetto. C'era un signore che era Presidente del Consiglio, si chiamava Anderotti, diceva che era amato in Italia quell'italiano che voleva mettere a posto le ferrovie, in maniera di mettere a posto la Sicilia. Dopo questa relazione non fatemi internare. In ogni caso il progetto Sicilia è un progetto molto importante e da questo progetto dipendono in buona parte le sorti dell'Italia e dell'Europa. Questo è stato riconosciuto anche ultimamente in articoli di fondo, sia sul Corriere della Sera che sul Frankfurter Allgemeine. Perché se si vuole salvare in questa competizione globale o collaborazione globale, bisogna vedere come la si vuole intendere, l'Italia e l'Europa è chiaro che si deve partire dal Mediterraneo e vedremo perché. Allora c'è questa lettura del progetto Ciao e vorrei soltanto dare alcune note perché se no visto così veramente lo si può interpretare come un sogno astratto. Voi dovete tenere presente che in Cina i presidenti cinesi operano in termini simili ai presidenti francesi. Cioè i presidenti francesi lasciano un'opera importante, il Pompidou segna un'epoca e avanti così, la grande libreria, l'epoca di Viterrane e così via, i presidenti cinesi si fanno una città. Adesso vediamo, ecco questo è Ciao Fediani, allora dicevo in progetto, scusate torno indietro, vediamo ancora un attimo, questa è dal punto di vista della città dell'energia e qui è vista dal mare, dal volfo del Boal, questa è la città della conoscenza e vedete poi la montagna dell'energia. La montagna dell'energia a sua volta all'interno della città è autosostenibile in se stessa, cioè si autogenera con un eolico, sono nuovi tipi di vetri che hanno dentro le palette eoliche per avere la propria generazione interna. Qui sotto attraccano dentro, qua sotto tenete conto che qui sono circa 800 metri e la piastra che accoglie come una tenda il mare che entra all'interno, c'è il grande porto delle navi da crociera che dà su musei, che dà su donne attrezzate e così via e le navi entrano all'interno di questo porto. Allora questo che appare, i famosi discorsi che appaiono sogni, i cinesi le stanno realizzando. Questo è ormai due anni che sta andando avanti una realizzazione, si stanno facendo le infrastrutture, si stanno definendo tutti questi elementi, sono ovviamente impegnati decine di migliaia di tecnici sullo sviluppo del progetto e questa logica è una logica necessaria, necessaria se si può sopravvivere. Di qui l'interesse per il progetto ARGE, io l'ho chiamato ARGE, non so, fermiamoci per te, in ogni caso riguarda la Sicilia, ecco, come capitale del Mediterraneo. C'è un grande interesse internazionale, dicevo, determinato da questi avvenimenti, vediamoli molto rapidamente in terzo millennio, Mediterraneo-Sicilia. I capitoli fondamentalmente sono questi, la storia continua, globalizzazione di grandi aree metropolitane, in un clima di globalizzazione sono le grandi aree metropolitane che concorrono o collaborano fra loro, questo è molto importante, trovare termini di collaborazione, un sistema di reti di grandi aree metropolitane in termini globali che possono vincere le grandi sfide economiche. Le direttrici di sviluppo geopolitico e la centralità dell'economia globale, la piazza degli scambi del Mediterraneo, la Sicilia ha la fortuna di trovarsi al centro del Mediterraneo, lo vediamo bene qui, poi, scusate, torno un tono indietro, come lo vedete, poi Sicilia la centralità metropolitana globale, una grande smart city capitale del Mediterraneo, ecco qui cominciamo a entrare nel concetto di smart city. A parlare mio sulla smart city c'è una grandissima confusione, nel senso che si continua a parlare di smart city immaginando che smart city sia una sorta di grande calzone, calzone nel senso gastronomico del termine, un grande agnolotto, cioè dove si riempie dentro di tutto e si mettono un sacco di tecnologie, quella è la smart city. Quello non c'entra niente da smart city, a parlare mio. La smart city è l'esatto contrario, smart city vuol dire rendere il territorio, questa è una mia interpretazione, ma credo che sia di interpretazione logica, vuol dire rendere tutto il territorio una grande città. Io posso stare su un albero e interlocuire ed essere ai vertici della conoscenza mondiale, lì sto dentro una smart city. Magari a smart city devo cominciare a buttare tra i una città, a distruggere la tutta per farci passare le fibre ottiche, certo farò anche operazioni di questo genere, ma a impatto il più contenuto possibile. Ma smart city vuol dire grandi termini. Infatti io quello che continuo a insistere e ne ho cominciato a parlare in ambito nazionale siciliano è il fatto che la Sicilia è una smart city. Cioè, o si intende la Sicilia come smart city, che allora la Sicilia è riconoscibile come centro del Mediterraneo, come capitale del Mediterraneo, come grande opportunità per l'Italia e per l'Europa, e lo vedremo, del Mediterraneo, ovviamente infrastrutturata per essere la capitale del Mediterraneo. Vuol dire un'operazione analoga, per quella che nell'Ottocento hanno sviluppato su Manhattan, che era una normalissima penisola che è diventata la capitale della finanza del mondo nel secolo passato. Anche è stata infrastrutturata perché il mondo ha collaborato alla sua infrastrutturazione ed è diventata quello che è diventata, cioè il grande centro di propulsione della cultura, anche economica finanziaria americana. Anche il simbolo, poi i simboli vanno a sedimentarsi in queste aree, non a caso l'emperse building e poi le tolle gemelle sono diventate il simbolo di questa città. Bene, poi transculturalità e progetto, perché o si definisce un progetto che sia assolutamente transculturale e sia interculturale anche e sia adatto a una cultura globale o è meglio immaginare di andare non solo in serie B come paese, nella classifica dei paesi, ma in serie C e forse addirittura non giocare neanche più le partite. Allora, torniamo in diretta con i nostri ospiti. Scusate, insomma, è la prima volta che facevamo un'operazione di questo tipo e quindi abbiamo sentito dalle parole dell'architetto Maggiora, insomma, abbiamo estratto da un discorso che durava 40 minuti, circa 9 minuti, insomma, molto ridotto, perciò possiamo anche fare degli approfondimenti. Innanzitutto, so che su questo progetto sono interessati moltissimo i cinesi, cioè la Cina come ormai grande potenza mondiale, disposta anche a metterci i propri capitali per farsi realizzare insomma quest'opera. Io non direi che sia interessata solo la Cina, sono interessati tutti quei paesi del mondo che in questo momento hanno il PIL a due cifre, cioè quei paesi che crescono e che hanno il grande interesse di aprire i mercati globali e all'interno di questo concetto, questi paesi sono i paesi del BRICS, cioè sono il Brasile, l'India, la Russia, la Cina e il Sudafrica. Questi hanno la necessità di aprire grandi mercati in tutti i continenti, ma questo non vuole escludere gli altri paesi, chi più ne ha più ne metta. Certamente questi paesi devono passare per trasportare le loro merci dal Mediterraneo, cioè in pratica il Mediterraneo oggi è diventato il centro del mondo, perché le navi che passano dall'Oriente, che vengono dall'Oriente e devono portare le loro merci nel Nord Africa, in Europa, in Medio Oriente e poi anche con diversi mezzi di trasporto verso l'Occidente, devono entrare nel Mediterraneo e per questo oggi il canale di Suez è ritornato a rifiorire nella sua funzione ed è soggetto ad un ampliamento, per cui oggi passano 2 mila navi, appena saranno completati i lavori di ampliamento arriveranno nel Mediterraneo 4 mila navi. Al giorno. Al giorno. Ne parlava un articolo di qualche giorno fa sulla Sicilia a firma di Tony Zermo, parlava proprio di questo discorso qua con il potenziamento già del porto di Agusta e questo progetto, il progetto Arce dell'architetto per Polo Maggiore prevede anche un hub internazionale al centro della Sicilia. Spiegiamo cos'è un hub così anche i nostri ascoltatori capiscono di che stiamo parlando. io volevo aggiungere un'altra cosa, proprio per il porto, per il canale di Suez, sarà la modifica, permetterà l'ingresso delle grandi porta container, cioè da 300 milioni di tonnellate. Questo sembra nell'ambito del progetto, comunque rientra in quel corridoio 1. Voglio parlare tu? Sì, sì, io vorrei specificare, proprio per chiarire un po' l'importanza del progetto, che ogni infrastruttura prevista dal progetto è un'infrastruttura che viene messa a sistema con le altre, cioè significa che non sono le sclassiche, le solite cattedrali nel deserto, ma sono opere che funzionano insieme e solo se sono insieme possono funzionare. Il hub aeroportuale del centro Sicilia, che molto velocemente sarà fatto proprio vicinissimo a Caltanissetta, oltre a offrire delle eccezionali opportunità per la nostra città, bisogna appunto dire che è messo a sistema con le altre infrastrutture. In definitiva l'aeroporto, insieme al porto d'Augusta, insieme all'alta velocità, insieme al ponte sullo stretto, insieme concorrono in questo grande progetto che è il progetto Arge e senza una sola di queste infrastrutture del progetto Arge, non ha più ragione di esistere. Le grandi opportunità non sono solo per Caltanissetta, ma sono per tutta la Sicilia, per tutta la Calabria e perché no anche per tutta l'Italia e l'Europa. È un progetto così ampio, così ben strutturato, che i benefici andranno a tutti. Quello che conta è crederci e avere in mente questo progetto dei siciliani per la Sicilia e degli italiani per l'Italia. È un progetto che bisogna amare ed è un po' una fede, è un po' una religione che bisogna assumere. È un credo, infatti io e Aldo ormai tutto il nostro tempo libero lo dedichiamo alla divulgazione di questo progetto e quindi mi auguro che i siciliani possano capire in fretta l'importanza delle cose che diciamo e quindi che si avvino al più presto i lavori. In realtà già l'ampliamento del porto di Augusta rappresenta un primo tassello del progetto Arge. Quindi noi siamo veramente felici che l'Europa abbia individuato nel porto di Augusta un obiettivo core, cioè di primo livello di qualità. Dicevamo quindi la Sicilia come smart city del terzo millennio, al centro del Mediterraneo, al centro dei traffici internazionali di tutto il Mediterraneo. Un progetto, dicevo prima, tre virgolette faraonico perché è veramente molto bello e diventerebbe una svolta epocale per la nostra terra. Allora, progetto bello, bellissimo, ci piacerebbe farlo subito e immediatamente, ma quali sono gli ostacoli che inevitabilmente nel percorso si vanno ad incontrare? Io non parlerei di ostacoli. Prima bisogna conoscere bene il progetto e quali sono gli obiettivi. e senza dubbio dobbiamo fare qualche riflessione. La prima riflessione che mi viene in mente è che la Sicilia, che è una grande isola, la più grande isola del Mediterraneo, ha un numero di abitanti che è di 4 milioni e mezzo. Questo numero oggi con la globalizzazione siamo diventati piccolissimi. Siamo piccoli in Sicilia, ma siamo altrettanto piccoli in Italia con 60 milioni di abitanti. Siamo piccoli in Europa, in tutta l'Europa del mercato comune con 300 milioni di abitanti. Se ci confrontiamo con la nuova realtà globale dove sono entrati in gioco i grandi paesi. La Cina, per dirne una, è un paese da un miliardo e mezzo di abitanti. L'infrastrutturale della Sicilia e il suo territorio, così come giustamente nella presentazione dell'architetto Maggiore, significa infrastrutturare un territorio con i suoi abitanti che corrisponde dall'incirca ad un quartiere di Pechino. Le dimensioni dove noi ci dobbiamo proiettare sono proprio queste e il motivo per cui la dobbiamo infrastrutturare. Ne dico uno e poi man mano che parliamo ne diremo anche altri. Il fatto di portare le merci qua, di fare una piattaforma per le merci che provengono dall'Oriente, significa poter trasportare poi dalla Sicilia, un esempio, nel nord Europa con l'alta velocità e l'alta capacità, queste merci nel giro di 24 ore. Se invece le dobbiamo trasportare con le navi come oggi avviene, dobbiamo fare un percorso molto più lungo, quindi uscire nell'oceano atlantico, risalire l'Europa dall'altro lato e impiegare per fare questo percorso sei giorni di navigazione per andare e sei giorni per venire. Mentre con l'infrastrutturazione della Sicilia e con l'alta capacità, quindi attivando quello che è il Corridoio 5 che da Helsing arriverà fino a Palermo e a Malta, questa cosa sarà possibile. In 24 ore le merci saranno trasportate nel nord Europa. Questo che significa? Significa che avremo 12 giorni in meno di navigazione, ma soprattutto l'utilizzazione della flotta per un maggior numero di trasporti e non trascurare il fatto che le merci viaggiano con delle assicurazioni che sono fortemente costose e tutto questo trasportato sul costo del prodotto verrebbe enormemente abbattuto. Uno dei principali motivi di ordine commerciale è proprio questo. Poi ci sono gli aspetti politici di questo fenomeno. Noi siamo stati baciati dalla fortuna come lo fu la Sicilia ai tempi della Magna Grecia, dove era al centro del mondo civile di allora. Oggi siamo ritornati in quel periodo. Cioè l'orologio della storia riparte da quel punto. E certamente il dono che ci ha fatto il signore ponendoci al centro del Mediterraneo è proprio questo. Non l'ha voluto nessuno, ma siamo messi lì. E quindi dobbiamo sfruttare un treno che passa. Dobbiamo salire su questo treno della storia. Quindi dicevamo che l'infrastrutturazione della Sicilia significa completamente, l'ho visto un po' il progetto dell'architetto, significa anche il potenziamento dell'autostrade, delle strade, ferrovia agganciata vicino alle linee guida dell'autostrade, i tempi di percorrimento dimezzati. Abbiamo detto l'Hub internazionale al centro della Sicilia, quindi un aeroporto internazionale con scalomerci. Si diceva c'è al giorno, non so quante migliaia, mila o milioni di persone in un mese per raggiungere una cosa del genere. E però fondamentale, dicevi tu, sul corridoio Helsinki-Malta diventa il ponte sullo stretto che alcuni magari naturalisti o ambientalisti osteggiano. Cosa possiamo dire in dazze? Ci risponde il dottore Gilda. Sì, come dicevo prima, tutte le opere previste dal progetto Arge sono messe a sistema e uno dei tasselli di questo sistema è il ponte sullo stretto di Messina. Non si può pensare di rendere le linee ferroviarie siciliane superveloci e quando parlo di supervelocità parlo di 300 km orari se non si pensa al ponte sullo stretto. Non si può pensare che la linea ferrata arrivi a Messina con 300 km di velocità oraria e poi si fermi per l'attraversamento con il traghetto. Ma al di là di questo il ponte sullo stretto potrebbe essere l'opera per rilanciare l'intera Italia. Io ricordo ai nostri amici telespettatori e radioascoltatori che in America durante il periodo dell'aspra recessione del 29 quando si volle dare una svolta negli Stati Uniti si progettò e si costruì il Golden Gate che divenne un po' il simbolo del riacquisto della fiducia da parte degli americani e una spinta enorme per l'uscita dalla crisi e per gli investimenti e per la rinascita degli Stati Uniti. Il ponte sullo stretto di Messina potrebbe rappresentare al di là di ogni cosa una sfida, una grande sfida per il rilancio dell'intera Italia. Senza dire che opere così importanti necessitano della buona volontà di tutti e tutte le ditte di costruzioni del nord Italia, del centro Italia e della Sicilia verrebbero tutte essere impegnate. Si alzererebbe quello che è purtroppo un cancro della nostra società e cioè la disoccupazione giovanile che è ormai ai massimi storici e si avvierebbe quella seconda fase che tutti dicono di voler fare ma nessuno sa come fare che dopo il rigore del poco compianto Monti dovrebbe avviarsi diciamo così al rilancio economico e agli investimenti. Quindi il progetto Arge di Bertano Maggiore oggi sembra a noi l'unico vero grande progetto di rilancio per l'Italia. È toccato temi quali l'economia comunque Monti, il periodo di crisi che stiamo vivendo. Allora una domanda spontanea che viene fuori ma dove è possibile reperire fondi per un progetto del genere penso che abbia bisogno di insomma parecchi finanziamenti. Sì certo sono necessari finanziamenti, finanziamenti che oggi non possono venire dall'Italia che non ha una lira e che soprattutto deve pensare a rilanciare le proprie produzioni e quindi investire in quel senso e investire soprattutto nella qualificazione dei giovani perché questi poi possano trovare un loro percorso di vita lavorativa. Per quanto riguarda questa infrastrurazione proprio dicevamo che questi paesi del BIC trovano un grande interesse a investire in Sicilia. Oggi non si può parlare di grandi investimenti ma così come avviene nel resto d'Europa e così come avviene nel resto del mondo se non ci sono le convergenze di grandi investitori economici. Ma in questo caso, proprio in questo caso, gli investimenti verrebbero direttamente dai governi. Poi immaginate che la Cina che ha comprato i due terzi del debito pubblico americano ed è intervenuto in quell'economia americana, se ha problemi per investire oggi 300 miliardi di euro in una infrastrutturazione della Sicilia. 300 miliardi che non vuole essere quello che si dice comunemente, i cinesi vogliono comprare la Sicilia, è il perfetto contrario, vogliono investire in Sicilia. Una cosa diversa, ciò che noi cerchiamo ovunque per far ripartire la nostra economia, ce lo offrono perché hanno un interesse. Ma i cinesi è la seconda potenza mondiale del mondo e se vengono qui i cinesi vengono tutti gli altri, vengono a ruota tutti gli altri, vengono soprattutto i paesi arabi, vengono i paesi che hanno nei loro paesi hanno le grandi fonti energetiche e hanno la necessità di colloquiare con questa parte del mondo. E purtroppo c'è un fatto che probabilmente la Merkel non vuole, non vuole che il centro dell'Europa diventi l'Italia e la Sicilia. Il motore trenante. Cioè con questa cosa noi ritorneremmo a quello che era Siracusa nella Magna Grecia, che era la New York del Mediterraneo, noi ritorneremmo ad essere la New York del Mediterraneo, dove la Sicilia sarebbe la Wall Street del Mediterraneo. Questi sembrerebbero sogni, però se ci mettiamo a tavolino e andiamo a fare i conti e soprattutto se noi abbiamo una governance che è capace di aprire questo dialogo diplomatico con i paesi che vogliono venire a investire in Sicilia, molte di queste cose diventerebbero molto più semplici. Di questi esempi noi che ci siamo occupati sempre nel sociale è come quando abbiamo portato, parlavamo dell'Università Caltanissecca, quando su questo fronte ci furono i muri alzati. Oggi però alcune di queste iniziative, alcune sono state montate molto più avanti, tante volte la cecità, diciamo politica e sociale, perché non voglio escludere i cittadini da questa cecità, ci hanno fatto battere un momento di arresto, ma anche se oggi i tempi sono compiati completamente. E proprio all'interno di questo progetto, quello che potrebbe essere oggi il progetto universitario, viene spostato molto più avanti perché questo stesso progetto prevede la costruzione della città della salute, è un concetto assai diverso di un'università chiusa in un recinto, ma che è un'università o un centro di cultura scientifica vocata alla ricerca. Nella città della salute che oggi sono pochissime nel mondo, una di queste a Pechino, un'altra a Chicago, un'altra a Pittsburgh, dove si fanno i grandi trapianti, la serie dei grandi trapianti, e il progetto lo prevede a Caltanissetta, dove solo il 20% è deputato alla clinica, cioè alla cura dei malati che sono nelle patologie più difficili e più disparate, mentre l'80% è vocato alla ricerca, con finanziamenti che proverrebbero. In questo caso con i grandi interessi delle multinazionali che si interessano del farmaco e delle costruzioni dei presidi medici, verrebbero qui ad investire. Posso dire una curiosità? La curiosità è questa, che nel campo della ricerca farmacologica e medica in generale, il mondo investe 20 volte di più che non nell'automobile. Questo per volere dimostrare l'entità di questi finanziamenti e di queste risorse, che in parte potrebbero arrivare anche da noi con la città della salute, come ha detto bene Aldo. Insomma la nostra governance politica non coglie queste opportunità, o comunque ci vuole un lavoro di tenace e perseverare affinché si riesca a far comprendere che un progetto del genere ci vorrebbero non solo al centro del Mediterraneo, ma al centro del mondo. Ubaldo questo lavoro lo stai facendo tu oggi, perché le governance diventano forti, se la spinta dal basso è forte. E certamente questa diffusione che noi stiamo facendo oggi di questo progetto e speriamo di fare arrivare al nostro pubblico con chiarezza quello che è l'essenza del progetto. Ripeto, non è quello che poi si trasforma nelle discussioni di salotto, ah ci sono i cinesi o ci sono gli arabi, spieghiamolo bene, ripetiamo questo concetto, qui si tratta di andare alla ricerca di finanziamenti internazionali e di coagulare nel nostro territorio, perché abbiamo questa fortuna oggi, la fruibilità di questi finanziamenti. Questo è importantissimo. A dover governare tutto, logicamente. Per fare della Sicilia, la piazza. No, volevo dire una curiosità, giusto per togliere e per fugare ogni dubbio a proposito dell'argomento che ha detto Aldo, cioè del fatto che i cinesi ci vogliono comprare. Non è questo il problema. Noi siamo andati a spulciare i rapporti, i resoconti delle riunioni bilaterali tra il governo italiano e il governo cinese. Questi documenti prevedono investimenti bilaterali, significa che noi possiamo andare a investire in Cina e la Cina può venire a investire da noi. Sono accordi internazionali, quindi nulla di particolare e nulla di strano. Peraltro questa bilancia oggi pende molto a favore dell'Italia, perché molte vite, come Benzaio Giubaldo, sono andate in Cina e hanno messo lì i loro stabilimenti e lavorano in Cina, anche perché il Made in Italy in Cina è estremamente ricercato e voluto. Questo non è avvenuto in Italia. Al di là di quei commercianti che aprono le botte gucce ai ristoranti, in realtà la Cina non ha ancora iniziato gli investimenti veri in Italia in genere. Quindi non ci dobbiamo scandalizzare di questo. Oggi si ragiona così, oggi si ragiona per le grandi opere in termini di project financing, cioè dei progetti che vengono cofinanziati da vari governi e da vari investitori privati e pubblici. Se tra questi c'è anche la Cina, che ben venga, ma ci sono i paesi arabi, i paesi produttori di petrolio anche dell'est europeo. Oggi si deve ragionare in termini di globalità. Non esiste più che l'Italia può affrontare da sola questi investimenti delle opere pubbliche. C'è bisogno di grandi investitori e c'è bisogno dei paesi che danno garanzie anche, e noi dobbiamo offrire garanzie a loro. I cinesi o chi per loro vogliono tempi corti e certi. Cioè per un'opera pubblica è finito il tempo e ci vogliono decenni per farla. Oggi dobbiamo predisporre i tempi e quei tempi si devono rispettare. Anche perché lo diceva l'architetto maggiore alla fine del filmato che abbiamo mandato, diceva qui la partita bisogna giocarla subito, immediatamente, visto la geopolitica che abbiamo oggi. Altrimenti non solo rischiamo di giocare in serie B o in serie C addirittura, ma proprio di non giocarla proprio la partita e essere tagliati fuori da quello che sarà l'economia del mondo del terzo millennio. Indubbio. Perché un altro motivo, apriamo un altro capitolo del progetto. La Sicilia ha una grande storia e il crocivia di civiltà ha nel suo carnet le carte in regola per poter rappresentare oggi la capitale del Mediterraneo e per questo viene scelta. Quindi il progetto in realtà non è solo un progetto di infrastrutturazione di opere materiali, è l'infrastrutturazione di opere materiali senza aprire nuove ferite ambientali. Questo è importante perché il tutto verrebbero ad essere trasformate tutte quelle strutture con le ferite già aperte. Altra cosa importante è che dove noi siamo estremamente carenti e dove dobbiamo entrare con forza proprio in virtù di questo progetto e degli investimenti che vanno fatti è andare alla ricerca della valorizzazione di tutte le nostre capacità immateriali. E qua stiamo parlando dell'arte, stiamo parlando del teatro, stiamo parlando del gusto, stiamo parlando dell'archeologia, stiamo parlando delle arti in genere e del mito. Noi siamo la terra del mito. La terra del mito. Ne vorrei raccontare una proprio perché è molto significativa. Si è avvicinata al progetto di una persona, il sindaco di Vallelunca, che è Carmelo Montante, una persona che ha una grossa cultura, un grosso interesse per l'archeologia, il quale ha ipotizzato che proprio in Sicilia, già mille anni prima della venuta, della colonizzazione greca, i sicani si è venuto qui in Sicilia il re di Creta. Minosse. 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 E proprio la leggenda racconta che Minosse sia morto qui ed è stato sepolto qui in una struttura che è vicino a Aria. E tutto questo percorso, proprio in virtù di questa ipotesi, in virtù di questo progetto potrebbe essere studiato e significherebbe, se viene dimostrato scientificamente, scostare la storia della Sicilia di mille anni ancora indietro. Ora, scusa Baldo, dicevo. Siete voi che dovete... No, 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 voglio solo fare... Ora ci hai fortemente stimolate, quindi tutto viene fuori più facile. Vorrei che i nostri radioascostatori o videoascostatori pensassero per un attimo, immaginassero per un attimo come potrebbe essere la Sicilia del Terzo Milenio. Ecco, questo diventato... La Sicilia del Terzo Milenio potrebbe essere. Immaginatevi una Sicilia ben infrastrutturata, con quelle opere che abbiamo detto, in cui, oltre a queste opere, vi sono tutte, vengono conservate e rilanciate tutte le bellezze della Sicilia, le sue tradizioni, la sua storia, i suoi musei, le sue opere architettoniche, il mito, credetemi, diventerebbe la Miami, non so, del Mediterraneo. La Sicilia è un'isola che ha una storia tutta particolare, con dominazioni e ciascuna dominazione ha lasciato un segno. Quindi millenni di storia, millenni di tradizioni, millenni, la bellezza del barocco, la bellezza di Agrigento, di Segesta, di Siracusa, di Catania e tutto il resto offrirebbe anche la possibilità di un turismo che è uno dei tasselli del progetto, perché è facile dire che la Sicilia potrebbe vivere solo turismo, non esiste. La Sicilia deve vivere anche di turismo, ma non dobbiamo dimenticare l'artigianato, i prodotti tipici, l'agricoltura di nicchia, tutte cose che sono previste come opere infrastrutturali immateriali nel progetto arte. I benefici sarebbero per tutti e la crescita sarebbe nell'intera Sicilia e non ci sarebbero più, non ci sarebbe più la fuga dei cervelli, i nostri giovani purtroppo la parte migliore della Sicilia oggi è miglia per andare a lavorare nel nord e anche ormai nel resto d'Europa e del mondo e perdiamo un valore che è veramente un grande valore per la nostra terra. I nostri migliori giovani vanno via, invece potrebbero tornare e collaborare per questo progetto Arce. Certamente quando si fa un progetto si fa un'analisi SWOT per vedere opportunità, minacce, eccetera. Siamo in Sicilia, alla fine, lo ricordavo anche prima padre Enrico parlando del dio Arce, in quel tempo non c'era il calcestruttore potenziato. Ecco, come in un'opera così importante dove entrano in gioco parecchi miliardi di euro, come si fa a tenere fuori la criminalità organizzata. Rispondo a questa domanda, la parliamo subito dopo un'altra cosa, perché Salvatore Giunta ha aperto un altro capitolo importantissimo che è quello del turismo. Questa regione non ha mai avuto un piano turistico regionale, cioè qui il turismo si è fatto con le capacità o la buona volontà degli operatori che si sono dati da fare, ma comunque non è stato mai fatto un progetto organico, tranne che per quelle zone, citiamo una per tutte che è Taormina, che ha sfruttato tantissimo non solo la sua posizione, la sua storia e la sua fama nel mondo, ma soprattutto un turismo legato al mare, legato alle spiagge. Qui invece si tratta di aprire un capitolo enorme del turismo, con questi paesi che hanno delle popolazioni immense e che hanno tutti la voglia, perché queste comunicazioni non ci sono state mai e le apriremo oggi, aprendo la piazza del Mediterraneo, con un grande interesse che hanno i paesi dell'altra parte dell'emisfero, di venire a conoscere la nostra civiltà dove noi siamo i depositari. Se noi mettiamo a sistema questa struttura e soprattutto la mettiamo a sistema non solo con la viabilità interna, che significa viabilità interna, che in 20 minuti noi ci spostiamo dall'albero portuale in qualsiasi punto della Sicilia e con un aeroporto intercontinentale, quindi significa trarre qua le grandi società aeree del mondo, noi apriremo questo capitolo in maniera sistemica, metteremo il turismo a sistema, cioè permetteremo a tutti questi popoli con un programma turistico già organizzato e proiettato per 10, 15, 20 anni a far venire questi popoli a conoscere la nostra civiltà, la civiltà del Mediterraneo, la civiltà della Magna Grecia e tutto quello che è venuto fuori. Posso rispondere io a quella domanda? Le domande sono... No, 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 ho l'impressione che tu voglia riferirti alle difficoltà ambientali legate alla mafia. Mafia o quello che si vuole, insomma... La prima cosa che abbiamo fatto io e Aldo quando abbiamo portato l'architetto in Sicilia è quella di presentarlo alle forze dell'ordine, ai comandi generali, quindi dei carabinieri, della guardia di finanza, dell'esercito, eccetera, e in più abbiamo accompagnato l'architetto anche dai magistrati che fanno azione antimafia. Le l'abbiamo presentato e sono creati anche rapporti veramente di amicizia, di simpatia con molti dei nostri magistrati, quindi abbiamo cercato come primo obiettivo quello di garantire la legalità al progetto. Cioè non può essere che si arrivi a pensare che non si facciano opere pubbliche in Sicilia perché c'è la paura dell'infiltrazione mafiosa. Esattamente il contrario. Solo l'arretratezza infrastrutturale, culturale, crea la mafia. Quindi è proprio il contrario. Noi se vogliamo uscire dalla mafia dobbiamo crescere. Solo così, in questa maniera possiamo chiudere questa maledetta parentesi che purtroppo ci ha costretti, oggi come oggi, ad avere questo stato di arretratezza. Quindi la prima cosa è la legalità. Solo che noi, che ormai facciamo parte dello staff dell'architetto maggiore, non siamo dei poliziotti. Quindi diciamo che i ruoli si devono ben definire. Cioè ci penserà la magistratura, le forze dell'ordine, di comune accordo a preservarci da questo pericolo che c'è, indubbiamente c'è, ma che dobbiamo scongiurare e non possiamo, ripeto, dire che non facciamo questo, non facciamo quello perché ci potrebbe essere l'indicazione nazionale. Ripeto, è esattamente il contrario. Per dire in una parola, Baldo, noi siamo contrari, fortemente contrari, con chi sostiene che costruiamo il ponte per far stringere la mano alla costa nostra e all'andrangheta. noi stiamo su un'altra posizione, completamente diversa. Questi sono espedienti per essere contro l'Italia, il sud dell'Italia e la Sicilia. Io su questa cosa non ho sentito da parte dei siciliani un'alzata di scuri. E' fortemente offensiva. Perché, tra l'altro, se la Sicilia, se in Sicilia c'è la mafia, ma ci sono tanti cittadini onesti che quotidianamente lavorano e portano a casa il pezzo di pane o costruiscono futuro. E' proprio il ragione di questi cittadini che dobbiamo lavorare. Perché, se facciamo il contrario, creiamo l'ambiente idoneo alla mafia. Quindi, anche il progetto dell'architetto punta molto, oltre, giustamente, alla crescita economica, soprattutto alla crescita culturale, che è quel superamento, che diceva il dottore Giunda, della retratezza che oggi è il terreno fertile per la criminalità organizzata. Abbiamo sentito un po' di cosa si tratta, abbiamo parlato del progetto, andiamo in conclusione. Volevo chiedere, insomma, il dottore Giunda sempre ci ricordava che la prima cosa che hanno fatto quando hanno portato qui in Sicilia l'architetto, o che fa un maggiore, è di presentarlo, insomma, alle forze dell'ordine, così, per questo discorso della legalità. Quindi, volevo chiedervi quali passi, dall'inizio, insomma, del concepimento di questo progetto, quali passi avanti sono stati fatti e quali ancora quelli da fare. A mio parere, bisogna aprire una… bisogna anche il governo siciliano. Prima ancora del governo nazionale, apra un grande tavolo di discussione e un grande tavolo diplomatico sulla opportunità e sulla fattibilità del progetto. Questo percorso farà prendere coscienza di ciò che stiamo facendo. un'altra cosa che è importante, a cui noi spesso non siamo stati abituati, è che il progetto non è intestato a nessuno. Non c'è una forza politica che può intestarsi il progetto. Il progetto è di tutti. È di tutti i siciliani e della Sicilia e dei siciliani, dell'Italia e degli italiani e dell'Europa e degli europei. La possibilità che qualcuno si intesti il progetto potrebbe far sorgere il dubbio che oggi la forza politica che sarà in testa, che è in maggioranza, domani non sarà più in maggioranza, il progetto si ferma. Non è possibile. Proprio per la caratteristica del progetto e degli investimenti che gli altri stati vengono a fare in Italia. Anzi, diciamola con più forza. Prima ancora che le forze della maggioranza devono essere d'accordo col progetto alle forze di opposizione. Devono essere alle forze di opposizione a portare, a far accettare, a far prendere in considerazione il progetto e la praticabilità del progetto alle forze di governo. Deve essere una cosa di tutti. Per concludere? Facciamo adesso una battuta a ciascuno per concludere. Quando riguarda il discorso, la domanda precisa che hai fatto e cioè a che punto siamo, ti posso ricordare che noi è già da tre anni che lavoriamo su questo progetto e adesso siamo a un punto che è il punto di partenza. Cioè noi, dopo tre anni di lavoro, ora possiamo dire che lo striscione dove c'è scritto partenza già lo vediamo e, come dicevo prima, questo è rappresentato appunto dal potenziamento del porto di Augusta, che è il primo step previsto dal tuo gesto. Il primo step, infatti, ricordiamolo che hai avuto un investimento di 145 milioni di euro per l'ampliamento delle banchine e anche del dragaggio, eccetera. Questo permetterà al porto di Augusta di diventare l'hub portuale del Mediterraneo, del Mediterraneo per quanto riguarda la grande Europa. Ma, è inutile specificarlo, un porto da solo non significa nulla. Ci vogliono tutte le strutture che stanno alle spalle del porto, quindi l'autoporto, le autostrade, quindi la linea ferrata superveloce ad alta capacità e ad alta velocità, gli aeroporti, le autostrade e le autostrade del mare, quindi il potenziamento anche di altri porti, come il porto, per esempio, di Termini Imerese, il porto di Porta Empedocle, che dovrebbe essere più dedicato alle navi di crociera. Per concludere, Ubaldo, per concludere noi abbiamo già da tempo iniziato quest'opera di divulgazione del progetto, ma come diceva benissimo Aldo, il progetto è di tutti i siciliani. Quindi quello che noi speriamo è che con la stessa passione con cui noi abbiamo intrapreso questo, gratuitamente benedirlo, gratuitamente questo percorso, siano tutti i siciliani a seguirci e a collaborare in questo grande progetto. D'altro canto con la costituzione dei circoli Arge in tutta la Sicilia, di cui noi siamo i rappresentanti perché abbiamo creato il primo circolo Arge in Sicilia, ma ce ne sono tanti altri in quasi in tutte le regioni e province, con la costituzione del circolo Arge ormai ci abbiamo ad un dibattito che deve coinvolgere tutti i siciliani. Ciascuno può portare le proprie idee e i propri progetti all'interno del progetto Arge, saranno sicuramente portate. Però diciamo a chi ci ascolta, insomma a chi anche ci sta vedendo su Youtube, chi è interessato può far parte di questi circoli per portare, insomma, divulgare la conoscenza di questo progetto? Come deve fare? Cosa deve fare? Io penso, Aldo, che la prima cosa che deve fare deve collegarsi a Facebook, dove c'è un bel sito dove tu sei anche dentro e che lo gestisci un po'. C'è una pagina su Facebook ufficiale di questo progetto che si chiama Progetto Arge per la Sicilia. Progetto Arge per la Sicilia, questo è importantissimo, certamente possiamo dialogare insieme dai cittadini più semplici che vogliono saperne di più e quindi possiamo mettere a conoscenza dei vari step del progetto, ma anche di tutti coloro che trovano un interesse gancio per il progetto, perché ne sono interessati come istituzioni, come comuni, sindaci, aziende, tutti coloro che trovano un gancio per il progetto. Ma il gancio lo trovano tutti, su un progetto del genere, nessuno resta fuori. Questa è la cosa bella, ma soprattutto, e voglio ritornare a ripetere, questo è un progetto che cambierebbe il flusso del lavoro. Non solo troverebbero lavoro i siciliani che oggi sono costretti ad andare via, ritornerebbero quelli che già sono andati via, ma soprattutto una cosa importante, quella che oggi viene detta la fuga dei cervelli. Nel progetto c'è una grande ipotesi, una grande ipotesi che diventerebbe realtà se andiamo a costruire questo grandissimo centro di ricerca che sarà un punto di riferimento per tante altre cose. Ma questo può avvenire perché i grandi ricercatori, i grandi cervelli, possono avvenire se c'è un programma serio di ricerca e se ciò che facciamo è collegato con il sistema di ricerca globale. Quindi ringraziamo allora, siamo giunti alla fine, i nostri ospiti, il dottor Salvatore Giunda e il dottore Aldamico per averci parlato del progetto Arge per la Sicilia dell'architetto che è il Paolo Maggiore, un progetto, ricordiamolo, comunque pensato e messo sulla carta da un grande architetto internazionale insieme al suo studio Arca di Torino, un progetto altamente ecosostenibile e con un intervento impattante molto limitato. Quindi l'architetto Maggiore ci tiene anche anche all'ecologia e all'ecosostenibilità. Io rinnovo l'appuntamento con i nostri cari ascoltatori, per quanto mi riguarda con l'Ubato Scarantino a sabato prossimo avremo in studio ospite, salvo imprevisti, Giuseppe Gallè, coordinatore provinciale del Partito Democratico. Per chi si fosse persa questa puntata ricordo che può riascoltarla nei prossimi giorni sempre su Radio Amore oppure può andare sul nostro canale di YouTube, collegarsi a YouTube, sul motore interno cliccare, digitare Radio Amore San Cataldo Tutto Unito e può trovare questa bellissima puntata che abbiamo fatto oggi. Ringrazio ancora i nostri radioascoltatori a risentirsi il sabato prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.